Ascoli ovviamente è una squadra secondo me di un livello leggermente superiore a Rimini però in un campo che è bello, uno stadio comunque sia abbastanza una società blasonata quindi sarà una partita di sacrificio secondo me ma questa squadra è abituata a soffrire dovremmo migliorare un po' delle cose che sono mancate però ripeto, un po' per colpa nostra, un po' per difficoltà oggettive del campo quindi sanno benissimo dell'importanza della parte che ha oggi ogni partita è importante, è un po' meno pesante di quando si scavalla la metà del campionato però mi piace, mi piace come affrontano le gare, questo sì perché hanno giocato a volte con la difesa a tre, a volte ultimamente a Entella hanno giocato in un modo, diciamo che cambiano come... con il Milan esatto, con il Milan hanno giocato a quattro però anche noi possiamo fare entrambe le cose anche noi valutiamo sempre in base alla disponibilità dei giocatori che ha recuperato Catanese, sono out Costantino, Giacchino e Fazzi oltre a Gugger che è ancora a parte quindi è una squadra che ha delle individualità, ha esperienza davanti a giocatori di esperienza e di qualità però ripeto, sì, ripeto, è una squadra secondo me che è a livello della spalla e a livello di queste squadre Grazie 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 Grazie